Salve a tutti, oggi ci troviamo a Fornelli, provincia di Sernia, davanti alla chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. Abbiamo due campane, qui il campanile più quelle due là sopra, e tra poco ascolteremo il cenno festivo, ovvero la distesa delle due campane. Siamo proprio sulla cima del paese, guardate la particolarità del campanile, simile a quello di Sant'Angelo con l'arco sotto, come quello della catterrale di Sernia, e lì su poi abbiamo le campane. Questa qui è particolarmente nuova. E niente, allora da Fornelli per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Fornelli per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Fornelli per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima. Per ora è tutto, un saluto e alla prossima.